Buone Giorno! Notate questo frescissimo taglio di capelli perché non avevo un... veramente non ho mai... Non ho mai... ritegno e devo sempre esagerare, comunque ragazzi, come avete detto dal titolo, questo è un blog un po' più serio, non mi spaventate, non sto più andando il canale assolutamente, che magari qualcuno di voi leggendo il titolo avrà pensato, oh mia figlia, dopo un anno di attività e 36.000 iscritti, ovviamente no, cioè non mi salterebbe mai in testa dopo tutta questa fatica, ma anche perché, vabbè, avete capito, cioè non chiuderei il canale, solo semplicemente, questo è un periodo molto molto difficile per me, nel senso che non ho tempo praticamente di fare niente, ho abbandonato, per farvi capire, ho abbandonato la palestra, riprenderò a febbraio perché questo mese non ho il tempo di andarci, non ho il tempo di... durante la settimana, esco solamente il sabato perché non ho il tempo durante la settimana di uscire, non riesco, parlando adesso dei nostri interessi, non riesco a fare nessun video del mercoledì, perché è allucinante il poco tempo che ho a disposizione, io esco, dopo che mi faccio, minchia, ho rotto la taglia, dopo che mi faccio 5 ore a scuola, torno a casa, sinceramente non ce la faccio proprio a iniziare a fare le riprese, le riprese le farei volentieri di pomeriggio, solamente che di pomeriggio devo studiare e lo studio mi prende tutto il pomeriggio, quindi diciamo questo è un po' il problema e quindi come avete visto non è mancato un giorno un video, nessun video, solamente che molti di voi probabilmente stanno aspettando i video del mercoledì, i vecchi video del mercoledì, ma alla base di questa mancanza c'è anche il problema che per fare i video del mercoledì ho bisogno di pensare, ho bisogno di una cazzo di tranquillità per pensare, come quando mi vado a cagare e penso ai miei video, oppure mi vengono così, ma devo avere la mente riposata, sono stressato, se fossi una termina per il ciclo a spruzzo 24 ore al giorno, e quindi non ho veramente il tempo e la serenità mentale di pensare al video del mercoledì, infatti non ho nessuna idea, non ho nessuna idea ad oggi, ad oggi non ho nessuna idea per i video del mercoledì, sto tentando di finire il fuck ma non lo voglio pubblicare adesso perché verrebbe brutto, perché voglio fare una cosa carina ma mi manca addirittura il tempo, quindi è una situazione un po' catastrofica, per fortuna rimango le ultime due settimane di questo mese, quindi per queste due settimane il mercoledì cercherò di fare magari una volta un video di Just Dance, che è assai che non lo vedete, un'altra volta mi inventerò qualche altra cosa, comunque cercherò di fare il possibile per non farvi mancare nulla, però ecco vi chiedo questo po' di comprensione per questo mese che è un po' così, nella vita ci sono alti e bassi, come ci sono nella vita ci sono sul mio canale, spero vivamente che voi non per questo smetterete di seguirmi, finora non l'avete fatto quindi spero che continuerete così, io ce la metterò tutta comunque per farvi avere dei video sempre di qualità, il video del mercoledì, il video del sabato, il minecraft o qualsiasi cosa, comunque questo era quello che vi volevo dire, spero appunto che sia stato chiaro, perché molti di voi probabilmente penseranno dove è finito Murri, cioè dove è finito il vecchio Murri, il vecchio Murri è sommerso, quindi ragazzi io confido nella vostra maturità, confido nella vostra comprensione più che altro, spero che questo breve vlog vi abbia potuto chiedere tutte le idee, ci vediamo, ci vediamo come al solito nei prossimi video, va bene? Ok va bene ragazzi, ci vediamo presto, ciao ciao!